ciao eccoci da un altro tutorial questa volta noi di bomboniera shop abbiamo deciso di farvi vedere una bomboniera molto semplice e molto economica e molto carina e preziosa preziosa piena di sbaroschi che sono immaginabili si tratta sempre di un sacchettino un sacchettino con una spillettina in argento laminato con i confetti questa bomboniera per festeggiare servirà per festeggiare la nascita di vostra figlia o vostro figlio ed è perfetta per questo evento vado a fare i primi piani degli oggetti molto molto semplice da stacchetto da fare con i tiranti è parte buono buono ok vedi un po la spilla verso me ferma qualche versione bambina e bambino esatto questa è la lezione bambina ok buono e confetti partiamo allora apro il sacchettino che vi arriverà naturalmente già aperto voi dovrete solamente aprirlo così ci possono mettere confetti così oppure racchiusi in tulle però come vogliono ci possono anche mettere il bigliettino si 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 5 confetti all'interno poi le mettono a volte vogliono sempre il numero dispari vado a chiudere il sacchettino semplicemente tirando super semplice dalle due parti e il nastro faccio un semplice nodo e poi vado a fare un fiocco se poi se vogliono aiutare un puntino di colla per fermarlo possono farlo altrimenti tutorial super veloce schiocchettino fatto schiocchettino fatto vado a mettere la spilla apro il laminato argento inserisco la spilla chiudo la spilla chiudo la sicura ed ecco a voi il sacchettino per festeggiare la nascita della vostra bambina ok questo è stato super veloce super veloce super economico super carino sotto troverete tutti i link mettiamo i link degli oggetti del sacchettino un saluto da tutto lo staff perché sono due tutorial che non ve lo dico e alla fine mi tirano le mazzate davvero un abbraccio da Ale e un bacio da Giada ciao ciao alla prossima